Grazie a tutti Speriamo fino alla fine per magari se inciampa questa cimile riusciamo a risalire Qualcosa non ha funzionato come prevedevi alla vigilia? Credevi di non prendere un passivo così piuttosto pesante? Quello sì, noi sapevamo molto che era una squadra molto brava però non pensavo di prendere tutte le cose Però purtroppo loro sono stati molto bravi a sfruttare i nostri errori in fase difensiva come diagonali